Grazie ad un investimento di 320 mila euro e a 5 mesi di lavori completati con successo nelle scorse settimane, il nuovo Auditorium Zanella è pronto ad ospitare eventi di musica, culture e incontri ad Arzignano all'interno del plesso scolastico omonimo con 140 posti a sedere. Lo spazio inaugurato ieri mattina alla presenza delle autorità prende il posto della vecchia aula magna dell'istituto con comfort e migliori tecnologie in linea con i tempi, oltre all'utilizzo garantito per le attività didattiche sarà messo a disposizione di gruppi, associazioni e altre esigenze della comunità locale. Per il battesimo ufficiale presenti varie autorità locali e scolastiche guidate dal sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua che è stata festeggiata per il proprio compleanno che cadeva in coincidenza con l'inaugurazione. A fargli gli auguri a nome della scuola secondaria di primo grado Zanella tutti gli alunni delle classi terze, oltre a ragazzi e ragazze dell'indirizzo musicale a dare il loro contributo all'evento suonando dei brani. Presente per l'occasione il provveditore agli studi di Vicenza, la professoressa Nicoletta Morbioli.